Si è parlato tanto di acqua in questo ultimo anno Franco Venni, sul consumo dell'acqua, sui problemi che ci sono stati di carenza idrica. Oggi c'è questa tavola rotonda a Pescara per sottolineare come l'acqua stia diventando davvero un bene preziosissimo. È un bene preziosissimo, questa carenza che c'è stata durante quest'anno impone una riflessione molto seria e non a caso c'è qui anche l'ACA, c'è gli amministratori condominali eccetera, perché noi cosa vogliamo? Non c'è soltanto il problema della quantità d'acqua ma anche della qualità. Noi vogliamo che la gente possa bere l'acqua del rubinetto senza andare a finire sulle acque minerali oppure sulle stesse casette dell'acqua, sui filtri che vengono proposti ormai in modo molto speculativo nelle case, perché è un diritto dei cittadini di avere l'acqua pulita, trasparente, in odore, in soppore, in colore e lo deve dare l'amministrazione pubblica questa cosa, fermo restando che ci sono le bollette da pagare. Il punto chiave è che dal 2005 al 2019, dove abbiamo fatto tantissime indagini, il consumo dell'acqua del rubinetto è passato dal 47% di persone che non bevevano l'acqua, adesso siamo a oltre il 70%. Quindi c'è stato un peggioramento notevolissimo e il perché spesso è dovuto ai condomini, per cui noi chiediamo e abbiamo chiesto e stiamo facendo l'analisi dell'acqua nelle amministrazioni condominali, perché lì c'è un grosso problema di verifica delle autoclavi e delle pulizie riservatoi. Allora se tutti insieme, la quantità, la qualità, le modalità con le quali viene erogata l'acqua, ci mettiamo intorno, il senso di questa tavola rotonda, e forse piano piano qualche cosa riusciamo a fare, soprattutto cercando di stimolare la regione Abruzzo ad avere un piano regionale per l'acqua, cosa che attualmente non ha e quindi dobbiamo su questo insistere fortemente.